Milena, io sono il salutatore, tra tanto che ti cercavo perché tu veramente sei una grande attrice, sei veramente brava. Non arrivo a un metro e sessanta. Ma c'hai un cuore, un'arte incredibile e ti chiedo un saluto per tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre. Ti possiamo salutare? Ciao. Ciao, ecco io ti ringrazio e mi auguri a te per tutto e ti do la manina del salutatore che te la meriti. Il salutatore, ecco qua, sono io, così puoi salutare tutti. Grande Milena buco, sei una grande. Ciao.